Lettura numero 209 Pollo fritto con i pomodori Ogni popolo usa per friggere quell'unto che si produce migliore nel proprio paese In Toscana si dà la preferenza all'olio In Lombardia al burro E nell'Emilia Romagna al lardo che vi si prepara eccellente cioè bianchissimi, sodo e con un odorino di alloro che consola annusandolo Da ciò la strage inaudita in quella regione di giovani pollastri fritti fritti nel lardo coi pomodori Nelle fritture di grasso io preferisco il lardo perché mi sembra di un gusto più grato e più saporito dell'olio Il pollo si taglia a piccoli pezzi si mette in padella così, naturale con sufficiente quantità di lardo condendolo con sale e bepe Quando è cotto si scola dall'unto superfluo e vi si gettano i pomodori a pezzetti dopo averne tolto i semi Si rimesta continuamente finché i pomodori sien si quasi strutti e si manda in tavola Lettura di Lorenzo Giovagnoli